Sia lodato Gesù Cristo Un saluto carissimo a voi che ascoltate. Nel Vangelo di oggi assistiamo a questa situazione dove Gesù è invitato alla mensa da Morico Fariseo e qualcuno pone la domanda sul Regno. Il Regno era la questione discussa. Il Regno di Dio era l'avvento del Messia. Sapevano che Gesù era riconosciuto come tale e non nascondeva di esserlo. Dunque venne posta la domanda sul Regno di Dio in questa formula. Quando è che potremmo gustare il pane nel Regno di Dio? E Gesù intesse questa parabola degli invitati alla cena del Re e al momento giusto nessuno degli invitati vuole partecipare. Ognuno ha qualcosa di più importante da fare. Cioè non sono interessati al Regno. Cosicché la cena è pronta e il Re ordina ai suoi servizi di invitare tutti quelli che trova sulle strade tutti quelli che trovano i poveri, i viandanti, gli stranieri e poi ecco che non basta. C'è ancora posto. Chiamate anche gli altri. Forzateli a venire. Tutti quelli che sono i più diseredati nella malattia e dunque nella debolezza, nel bisogno. Ciechi, storpi, zoppi. Tutti quanti entrano. I perfetti, i signori, i principi costoro hanno le cose da fare che sono alternative all'invito di questo Re. Ed ecco che la conclusione, la chiave che conclude con una parola secca il discorso parabolico di Gesù è terribile perché dice nessuno degli invitati che non vanno a questo invito gusteranno la mia cena. Dunque Gesù si proclama Signore, Messia. È lui che invita alla sua, nel regno attraverso questa immagine della cena della festa una festa di gano una festa di onore è lui che invita nonostante adesso egli sia invitato ma non è invitato per stare con lui è invitato con malizia per metterlo in difficoltà e avere di che accusarlo. Così che in una parola Gesù rivolta la situazione voi che adesso qui credete di essere i gestori i signori i padroni di tutto che mi invitate a cena come se voi deteneste il potere delle cose in realtà sarete voi a non entrare nel regno. Voi che ora avete fatto identificare il regno di Dio con il regno sulla terra il regno delle cose voi che avete modificato quello che è il regno dello spirito quindi dell'essere delle intenzioni del cuore del bene che abita le anime del culto a Dio del seguire a Lui l'avete modificato con il possesso materiale della terra il dominio sugli altri la ricchezza materiale la verità l'ingordigia sono il vostro Dio voi non siete disposti ad entrare nel regno perché i vostri interessi sono tutti qua giù si potrebbe aggiungere una piccola nota che è dell'Apocalisse in sei giorni il Signore crea tutte le cose vuol dire sei stadi sei grandi tappe che sono le tappe dell'evoluzione materiale delle cose per instaurare poi dopo alla fine l'uomo che è destinato ad un altro regno nasce dalla terra per vivere nel mondo dello spirito i sei giorni sulla terra si concludono dunque con la creazione dell'uomo che è chiamato alla comunione con Dio il banchetto se vogliamo usare questa immagine eppure coloro che cercano di rimanere qui sulla terra e fanno del regno le cose materiali chi meglio si organizza meglio vive meglio arraffa e non importa il male che si fa agli altri l'importante è regnare qua sulla terra costoro sono quelli che non entrano nel settimo giorno cioè non entrano a dar culto al signore perché rimangono a dar culto qui a se stessi alla propria ingordigia alla propria materialità sulla terra anche se si parla di Dio si parla di regno però in realtà tutti gli interessi sono rivolti qua sulla terra e il nome della bestia moltiplicato tre volte per dire che è l'estremamente colui che è veramente fermato su questa terra che corrisponde a questo sei giorni sei 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 vuol dire tre volte per dire molto per dire assolutamente qui sulla terra è il regno l'inganno degli uomini è proprio su questo il bene materiale godetevi adesso la vita perché dopo non sarà più questo che sulla terra è la cosa più importante dimenticate distogliete l'invito al cielo non alzate mai la testa guardate sempre per terra sei 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 qui i sei giorni che Dio ha creato è tutto non esiste per voi la dimensione dello spirito cosicché coloro che nella prassi e nell'interiorità del cuore nella tendenza di vita cercano di vivere sulla terra e basta negando ogni tipo di trascendenza quindi ogni tipo di chiamata verso l'alto coloro che vogliono possedere la terra qui e vogliono dominare qui e schiassano gli altri per dominare costoro sono affermatori di questo spirito che è lo spirito che si ferma al sei cioè non entra nel sette cioè non entra nello spirito vuole rimanere nella materia l'anticristo è questo è vivere senza Dio facendo della terra delle cose di tutto quello che si svolge qua sul mondo l'unico orizzonte l'unica ragione che guida l'unico modello gli unici punti di riferimento la finalità dell'uomo è qui sulla terra stare bene qui sulla terra non esiste un regno di Dio nessuno di voi gusterà la mia cena Gesù si dichiara chiaramente come il Messia come colui che apre la porta dell'invito alla cena del Signore che è anticipata come sappiamo nell'Eucarestia ma è in realtà comunione col suo spirito comunione con la vita eterna comunione con la sua divinità comunione con la sua risurrezione la chiamata finale allo stadio finale a cui noi siamo chiamati contro ogni profezia materialista contro ogni ideologia materialista contro ogni prassi materialista che nega Dio il trascendente e la nostra vocazione a entrarci Dio vi benedica e la nostra attrazione a attrazione attrazione Grazie a tutti.